1 giugno. Si celebra la giornata mondiale dei genitori, istituita nel 2012 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La giornata offre l'opportunità di riflettere su tutti i genitori del mondo e apprezzarli per l'impegno disinteressato verso i bambini e il sacrificio per tutta la loro vita per seguire la relazione con i figli. Fin dagli anni 80 del secolo scorso il ruolo fondamentale della famiglia è stato sempre più oggetto dell'attenzione della comunità internazionale.